Spero proprio di noi, spero che il Presidente del Consiglio non lo faccia perché è sbagliato, è un problema della minoranza del PD, sarebbe un segnale devastante. Bersani ha detto nella nostra intervista durante lo speciale Maratona Quirinale che lui non voterebbe un provvedimento con la frode fiscale. Ma non ha detto che possa votarlo perché non sono nelle commissioni. È un decreto legislativo, quindi non ha bisogno di voti, ha solo un parere della commissione competente, ma sarebbe un danno perché questo Paese ha bisogno di tantissime riforme. La prima riforma di cui ha bisogno è una riforma morale. Se arrivasse un segnale per cui si depenalizzano la grande evasione fatta in modo volontario e attivo, sarebbe un segnale devastante. Siamo così attenti agli investimenti stranieri, agli investitori stranieri, alla reputazione del Paese e dai un messaggio come questo vuol dire che torni alla Repubblica delle Banane. Quindi spero davvero che il Presidente del Consiglio torni sui suoi passi. Spero che il Ministro Padoan abbia l'autonomia per portare in Consiglio dei Ministri il provvedimento che è uscito dalla commissione che semplifica, che limita lo spazio arbitrario dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la valutazione dell'abuso del diritto e della contabilità. Dopodiché si facciano delle semplificazioni per i piccoli che davvero non ce la fanno, ma si lasci stare i grandi evasori e il provvedimento oggi premia i grandi evasori e più sei grandi evasori più viene premiato.